Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video aggiornamento, mamma mia un mese e mezzo che non faccio video, in ogni caso scusate, spero che stiate tutti bene, come sapete è un periodo molto busy della mia vita, però è anche un periodo che mi sta dando tante soddisfazioni e sto facendo veramente un sacco di scoperte interessanti e divertenti. Vabbè, parlando delle cose più belle comunque di questo periodo, due delle mie collaboratrici, Sabrina Travi del canale Giappone a quattro mani e Lisa Rossi, sono venute a trovarmi qui in Giappone, sono rimaste un bel periodo e Lisa adesso tornerà a casa tra, non so quando verrà pubblicato questo video, probabilmente sarà già a casa per quando uscirà, mentre Sabrina rimarrà qualche settimana in più. E' stato molto bello perché abbiamo potuto fare un sacco di belle cose, siamo andati ad Atami, alle Terme, poi abbiamo fatto un'uscita stile tour per Yokohama assieme a Mangaka, Lucilla, Ipantella, Sefavij, che è stato molto divertente. E poi, niente, abbiamo fatto un po' di attività, un po' di meeting, un po' di cose, è sempre bello vedere proprio persone con cui magari lavori e collabori da tempo, perché ormai questa mia azienda l'ho aperta ad agosto e adesso sono più di otto mesi, ancora non mi sembra vero. Ma andiamo a parlare anche dei videogiochi perché, come sapete, a febbraio è uscito la demo del mio videogioco Unfollow, che è un gioco che va ad esplorare il mondo, diciamo, dark, il lato oscuro, se vogliamo, dei social media. È un gioco molto profondo e che sento molto personale, che tratta anche tematiche che raramente ho visto trattate in videogiochi e quindi ho unito, diciamo, la mia esperienza per quanto riguarda l'essere un creator. Come potete sapere, il mio viaggio, al di là di quello che poi vi ho fatto vedere sui social, è stato abbastanza, diciamo, tormentato perché l'ho visto veramente come una difficoltà, proprio il dover fare video per l'esigenza di dover fare uscire qualcosa. L'ho sempre trovato una cosa molto stressante e soprattutto non riuscivo a sentirla proprio mia, quello che andavo a realizzare. E invece il poter fare videogiochi sarà perché c'hai più tempo per farle, sarà perché ogni piccola cosa la puoi fare in modo diverso. Sento che posso esprimermi di più, perché posso esprimermi attraverso la musica, posso esprimermi attraverso raccontare una storia, attraverso anche solamente la scelta di determinati luci o di una sequenza di eventi. Che sto facendo comunque con gli sviluppatori che anche mi stanno aiutando, free di artist, eccetera. Però devo dire che il poter raccontare una storia così, secondo me, per la persona che sono io, ha più impatto rispetto che un video su YouTube. Quindi per questo motivo io, se mi seguite, vi interessa quello che faccio, spero che mi andrete a seguire anche per quanto riguarda il mondo dei videogiochi. Perché anche se non tutti magari sono videogiocatori, in questo videogioco cerco di raccontare una storia per me molto importante e che spero che possa essere importante anche per gli altri. Soprattutto le persone che magari hanno vissuto bullismo, oppure anche bulli, che magari attraverso anche questa storia potrebbero rivedersi e rivalutare magari alcuni loro comportamenti. Che hanno ottenuto, o anche e soprattutto il mondo dei social media e come ci si può relazionare nel mondo dei social media. E come, diciamo, la società ci impone determinati standard, determinate cose che non necessariamente per essere felici dobbiamo raggiungere. Spero che in Unfollow questo traspaia. In ogni caso, la Serafini Production non è solo Unfollow, anzi è uscito anche un altro titolo, il primo di aprile, chiamato La Maledizione dell'Occhio Culo. Va tra l'altro alle gare a quella di uno yokai, quindi di un mostro del folklore giapponese tale appunto Shirime, che è questo mostro che ha un occhio al posto dell'ano, se vogliamo essere specifici. È un mostro che realmente esiste e che abbiamo rivisto comunque in parte, diciamo, comica, perché appunto è uscito il primo di aprile. Però devo dire che ci ha molto divertito la realizzazione di questo gioco e soprattutto io vi assicuro che non mi aspettavo di vedere canali da milioni di follower, ma veramente, cioè, 8, anche 10 milioni di follower che hanno giocato a sto titolo mi hanno lasciato letteralmente senza parole. Cioè, vi parlo di mezzo milione di visite anche, ma anche di più. Ci sono addirittura dei video in cui ti vanno a fare la Story Explain, quindi la spiegazione della storia di un gioco che abbiamo fatto letteralmente in pochissimi giorni. Quindi il vedere comunque che abbiamo realizzato questo gioco, che comunque ha fatto anche delle vendite, perché diciamo che io tutta la Serafini Production l'ho fatta tutta con investimenti miei. Non ho chiesto niente a nessuno e quindi riuscire a realizzare tutto questo con delle persone fidate, delle persone comunque che si impegnano a realizzare questi giochi, ti rende felice, non lo so, riuscire a fare questa cosa. Anche se si tratta magari del gioco della maledizione del culo, quando vedi magari anche solo le prime mille vendite che ha fatto questo gioco, ne ha fatte di mille, però vedere, io vi assicuro che già dalle prime 100 io, non lo so, ero contentissimo di vedere questo risultato, perché comunque solo 8 mesi fa sembrava veramente una cosa assurda. Cioè io mi ricordo veramente che, ovviamente io non sono una persona che si butta giù, anzi cerca sempre molto di trovare le strade per arrivare dove vuole arrivare, quindi non pensi tanto alle conseguenze. Quindi adesso col senno di poi ti dico ero un pazzo, perché come faccio a fare cose così dal nulla? Però in qualche modo ci siamo riusciti e in qualche modo stiamo riuscendo a realizzare questa cosa su cui vedo tante persone che ci credono e mi fa davvero piacere. Adesso siamo anche al lavoro sul videogioco di Navigavia, appunto tratto da, non la storia, però l'ambientazione da Intel, che non so se qualcuno ha mai visto le serie che hanno su YouTube che sono bellissime, noi stiamo facendo il gioco appunto su Navigavia. Non voglio dirvi di più perché ci saranno futuri video update al riguardo, però anche quello sta dando tante soddisfazioni e sicuramente entro l'anno usciranno il gioco completo di Unpollo e perlomeno la demo di il gioco di Navigavia. Ma tranquilli perché ci saranno altre sorprese che arriveranno quest'anno. Poi che dire, dal punto di vista influencer continuiamo a lavorare con l'occhio creepy, si sta raggiungendo veramente degli ottimi risultati, sempre in crescita, e devo dire che c'è proprio un bel team che lavora al suo canale. Adesso siamo in, perlomeno che lavora solo sul suo canale, sono almeno in 6, 6-7 persone e ovviamente lei è quella che fa tantissimo, veramente Silvia è una delle persone che più si impegna, veramente, cioè proprio crede in quello che fa, lo fa bene e proprio lo fa anche in vista delle persone che la seguono. Quindi veramente mi piace vedere l'impegno che ci mette, la passione che ci mette, che è il talento poi che ha per fare questi video e anche il talento che ha proprio per connettersi con le persone che la guardano. E' una cosa veramente che io purtroppo non sono mai riuscito ad avere su YouTube, forse perché è un po' più timido o comunque facevo più difficoltà a connettermi attraverso il media di YouTube o comunque attraverso i video, mentre lei ci è riuscita benissimo. Io spero di poterlo fare invece attraverso i videogiochi. Poi ci sono delle novità anche per quanto riguarda gli influencer, appunto perché oltre a Silvia e Kinri, che sono gli influencer principali, adesso si è aggiunta anche, non so se posso già dirvelo, però insomma aiutiamo anche un altro YouTuber che magari avete visto in qualche video musicale che ho realizzato e comunque anche di questo me ne parlerò più avanti, ma adesso è già un mese che stiamo lavorando assieme e insomma ci saranno tante belle cose che vogliamo realizzare perché ci sono proprio dei video interessanti che abbiamo in programma. E quindi niente, questo video per dirvi che tutto quello che sto facendo sono riuscito a farlo grazie a voi perché sicuramente il mio percorso di YouTube mi ha aiutato nella realizzazione di questa cosa perché probabilmente non mi sarei reso conto di quanto avrei voluto far sentire la mia voce e anche se non sono riuscito magari a farla sentire attraverso i video YouTube sono contento che forse riesco a farla sentire attraverso i miei videogiochi quindi che dire, io vi invito per favore se avete Steam a mettere follow sulla pagina soprattutto sulla pagina di Serafini Production su Steam perché chi volesse provare il gioco della maledizione dell'occhio culo può farlo chi vuole provare la demo gratuita di Unfollow la può fare e poi vi resterete aggiornati con tutte le novità e tutte le cose belle che succedono. Io vi mando un saluto e se avete domande o argomenti che volete che tratto nei prossimi video magari se qualcuno vuole anche buttarsi nel mondo del game development o qualsiasi cosa scrivetemelo qui sotto che se è un argomento su cui riesco a farci un video lo farò volentieri. Niente, che dire, un saluto e alla prossima! Ciao!